Mi chiamo Fabiana e sono qui per presentare le trasmissioni della Terza Rete. Staremo insieme una settimana e parleremo dei programmi sera per sera. Oggi è una giornata particolare, una specie di primo giorno di scuola, l'inaugurazione della Terza Rete. Ma su questo torneremo fra poco nella rubrica Il Pollice. E proprio per l'inaugurazione la Rete ha scelto Rossellini. Mi hanno raccontato che un giorno Rossellini scherzando disse visto che quando morirò mi faranno sicuramente il coccodrillo che sarebbe una specie di biografia ricordo, tanto vale che cominci a farmelo da solo. Nella rubrica Tutti in scena va in onda alle 19.30 subito dopo il telegiornale tutto questo materiale inedito che Carlo Tuzzi filmò in accordo con lo stesso Rossellini. Questo ritratto affettuoso di Tutti in scena ci servirà per introdurre il film La presa di potere di Luigi XIV, il primo sceneggiato televisivo del grande regista.